cantieri a pesero rivoluzione piazza e stop al viale pedonale centro vaccinale frenata sul lab a marche multi servizi dipendenti senza stipendio sciopera il principale supermercato di osteria nuova elezioni a fano arriva il segretario della lega matteo salvini sport visse fano partono con due pareggi buona serata a tutti voi pubblico di rossini tv e ben ritrovati al nostro spazio con l'informazione serale di rossini news telegiornale di lunedì 5 settembre che apriamo con una serie di lavori pubblici che sembrano calare il sipario sull'estate nella città di pesaro oggi infatti terminata la pedonalizzazione di viale trieste durata oltre tre mesi e contemporaneamente è partito il cantiere per il restyling di piazza del popolo nemmeno il tempo di smontare palcoscenico e allestimenti della mezzanotte bianca dei bambini che piazza del popolo ha iniziato oggi a insediare il cantiere del suo complesso lavoro di riqualificazione della pavimentazione nel cuore della città una piazza che si vuole preparare al massimo dello splendore in vista di pesero capitale della cultura 2024 ma che di fatto non può chiudere del tutto al transito e alla fruizione di questo cuore del centro storico e infatti parte oggi un calendario di lavori in tre stralci concordato con le attività della piazza per creare il minore impatto possibile di disagi dopo le indagini georadar delle scorse settimane oggi è partita la prima di tre tappe di lavori questa prima tappa prevederà la rimozione dei sanpietrini la sistemazione del manto e il successivo riposizionamento dei sanpietrini nella metà della piazza compresa fra la fontana e il municipio lo stesso procedimento sarà poi utilizzato per l'altra metà della piazza nel secondo step previsto per ottobre in entrambi i casi sono previsti anche gli interventi da parte di marche multiservizi di riqualificazione della rete di sottoservizi la terza tappa sarà nella fascia laterale della piazza davanti alla sede del comune ma è un lunedì di cambiamento per il centro mare della città che si allarga pure alla fine della pedonalizzazione di viale trieste sono scaduti infatti ieri i termini per le isole pedonali che sono state create lo scorso 2 giugno su tutto il lungomare di pesaro confermando una scelta risultata azzeccata per il terzo anno consecutivo da oggi il viale torna carrabile ma di fatto lo sarà solo per pochi giorni perché dal 10 al 12 settembre richiuderà al transito per la fiera di san nicola ricordiamo anche che in concomitanza al via delle isole pedonali fu pure inaugurato il parcheggio di villa marina che invece resterà aperto anche per l'inverno nell'ottica della riapertura di pesaro studi sia come sede dell'università sia come sede temporanea della scuola media dante alighieri e prima di concedersi ai lavori di manutenzione straordinaria piazza del popolo è stata ieri e anche sabato presa d'assalto dalla mezzanotte bianca dei bambini una dodicesima edizione che rivivremo nello speciale che rossini tv trasmetterà domani martedì 6 settembre alle 21 20 ma che vi anticipiamo con alcune interviste realizzate durante la mezzanotte bianca dalla nostra nicoletta tagliabracci è un bel traguardo essere arrivati alla dodicesima edizione ma aver spostato anche l'attenzione di questa festa da giugno a settembre sì io parto con un finalmente in tanti ci chiedevano insomma dopo due anni di stop se questa bella iniziativa alla mezzanotte bianca che è un appuntamento non solo per i pesaresi ma anche per tante persone che arrivano a diverse parti d'italia si rifaceva e abbiamo scelto anche con il vice sindaco daniele vimini di spostarla a inizio settembre settembre anche l'inizio della scuola è per noi anche un appuntamento per la fiera di san nicola quindi è stato sicuramente un momento per dare ancor più vita a quello che sono le iniziative e le attività di settembre questo il 2022 è stato un anno delle ripartenze è ripartito lo sport e le tante iniziative sono ripartite le iniziative della città tutto questo però non ci deve far dimenticare quelli che sono stati i due anni di covi due anni tosti due anni duri che hanno limitato molto anche le attività sportive e di roba ce n'è tantissima a rainbow kids show con wings club 44 gatti summer and tot pinocchio in france che i bambini sono già in attesa da un'ora tra avremo coccole sonore con whisky ragnetto e greta che sono altri due beniamini dei bambini poi ci sono tutti i laboratori giochi interattivi con abio unicef ha visto tutte le associazioni del territorio di pesaro e non solo ci sono degli spettacoli diciamo artistici con calo strip show abbiamo tutto uno spazio dedicato con le sonore ci sono tantissime cose giochi con dietro le nostre spalle c'è una specie di laboratorio molto interessante su come comportarsi sui mezzi pubblici a cura di adriabus e di ami tante cose poi ci sono giostre trenini arrampicate chi più ne ha più ne mette c'è tanta roba mi è sembrato di capire che quest'anno oltre al gioco ci sarà anche il gioco della sostenibilità sì innanzitutto facendo conoscere la sonosfera che questa grandissima opportunità tecnologica e divulgativa che si è creata capace di raccontare con un programma la bellezza di raffaello e del suono che c'è dentro le sue opere e con un altro programma invece i mutamenti climatici e l'attenzione all'ambiente ma anche laboratori dedicati all'ambiente proprio nei tavoli dove i bambini e i ragazzi potranno impratichirsi con la creatività perché anche nei momenti del gioco del gioco passa la coscienza la consapevolezza per la tutela del pianeta doveva essere il nuovo centro vaccinale anticovid della città di pesero e invece sembra tramontare l'accordo fra asur area vasta 1 e marche multi servizi per la creazione del lab vaccinale nell'auditorium della stessa marche multi servizi in via toscana a partire proprio da questo mese di settembre ci sarebbero infatti degli ingarbugliati impedimenti burocratici che impedirebbero la creazione del sito in questo contesto e dunque l'asur deve ricominciare la ricerca di una sede alternativa all'ex restò chiusa ormai da giugno periodo in cui le vaccinazioni anticovid sono state deviate a fano e a urbino salvo i casi di soggetti fragili comunque previsti dall'ospedale di muraglia le immagini che vi mostriamo ora si riferiscono invece all'ex convitto vittorio colonna di fano oggetto di diverse segnalazioni circa la presenza di intrusi soprattutto nelle ore notturne nel corso di una verifica la polizia ha infatti rilevato la diffusa presenza di rifiuti e condizioni igienico sanitarie precarie alloggiate con sistemi di fortuna in ambienti pericolanti fatiscenti gli agenti hanno anche trovato quattro persone tre uomini e una ragazza minorenne che sono stati denunciati per il reato di invasione di edifici per la minore è stato anche predisposto il riaffido alla propria famiglia e sempre la polizia di fano in un controllo in zona gimarra durante gli orari da flusso alle spiagge ha notato un uomo sdraiato sotto un'auto parcheggiata e una donna a fungere da cosiddetto palo donna che si accorta della presenza dei poliziotti che ha dato il via a un tentativo di fuga della coppia in questione è così partito in seguimento fino a fosse o sei ore dove l'auto è stata bloccata e a bordo è stata identificata una coppia di stranieri già nota le forze dell'ordine assieme alla propria figlia di tre anni e anche a diversi materiali da scasso da una verifica sull'auto presa di mira risultava che la marmitta era stata sbullonata e tagliata nell'intento di asportarla e di impadronirsi dei metalli molto quotati sul mercato nero sono dunque scattate le manette per la coppia di ladri ed ora ci spostiamo nelle comune di montellabate e in particolare a osteria nuova dove il principale supermercato della frazione è chiuso per uno sciopero a oltranza che sta riscuotendo il sostegno di sindacati della politica e anche dei residenti vediamo ad osteria nuova dalla 30 agosto ha chiuso l'ex simpli oggi store 13 supermercato di riferimento della popolosa frazione di montellabate ha chiuso perché i dipendenti hanno incrociato le braccia all'ennesimo stipendio non percepito un'avvertenza che sabato mattina ha radunato la protesta dei dipendenti con scioperi sostenuti dai sindacati e con la solidarietà di tanti residenti presenti al sit-in è una chiusura figlia del passaggio della società Auchan Sma al gruppo Conad che nei mesi scorsi ha escluso alcuni punti vendita simpli passati all'attuale proprietaria fp srl oggi siamo qua per questa ennesima vertenza di lavoro legata sempre al passaggio di Sma e Auchan in questo caso alla ditta fp che da due anni a questa parte non ha rispettato tutti gli accordi che erano erano all'inizio ci sono due negozi interessati uno in via ponchielli a pesaro e questo di montellabate però sono passati due anni in vano e adesso oltre questo negozio è stato aperto con grande difficoltà e adesso oltre che non non è più rifornito quindi basterebbe fare un giro dentro per vedere la desolazione che regna è aggravata anche dal fatto che i lavoratori non stanno prendendo lo stipendio alcuni da da giugno sono senza mensilità ho mancato pagamento del 14esima mancato pagamento del mese di luglio e adesso anche il mese di agosto siamo già a settembre per cui siamo di fronte a una difficoltà economica evidente i lavoratori si sono messi in sciopero chiedendo praticamente il pagamento delle retribuzioni ma quello che cade oggi è una cosa un po' di più perché vedete qui oltre ai lavoratori ci sono anche i cittadini questo per dimostrare che questo punto vendita comunque ha un futuro e comunque svolge un ruolo sociale anche per il territorio stesso per cui chiediamo che la proprietà e tutti quelli che ci possono aiutare di sensibilizzare appunto affinché questo punto vendita possa avere un futuro perché ha un futuro sicuramente può avere un futuro per cui chiediamo per mentre ci sia una chiarezza sul futuro stesso di questo punto di vendita chiediamo che la società che non ha investimenti solo in questo in questa realtà ma ha investimenti in altre regioni in Emilia Romagna e anche in Sicilia possa dare veramente seguito a quello che sono stati gli impegni quando stato stato passaggio di proprietà dal punto di Margherita per cui chiediamo appunto che ci siano le garanzie per i lavoratori che possono percepire lo stipendo e possono avere garanzia per il futuro. Prima gli scaffali semi vuoti ora il supermercato chiuso con evidenti disagi anche per i residenti. Qui vengono anche persone che non si possono muovere quindi coloro che non hanno possono guidare la macchina coloro che hanno la problematica perché hanno i bambini piccoli tante persone persone anziane soprattutto soprattutto che trovano anche l'occasione per uscire di casa e anche l'occasione proprio di incontrare altre persone per fare anche due parole quindi ha un'importanza un impatto sociale notevole per cui tenerlo chiuso ha una grossa difficoltà. Io sono dovuta andare al Conad a Montecchio perché avevo delle mi servivano delle cose per il bambino e mi sono fatta praticamente il bagno con lui nel carrozzino quindi sono scesa di sotto il negozio era chiuso pensando che magari avevano un giorno di chiusura e invece mi sono fatta a piedi fino al Conad e mi sono praticamente mollata tutta e anche lui ovviamente. Ci ritroviamo che questo supermercato all'improvviso chiude e non c'è più nulla sullo scaffale non sappiamo perché e quindi le persone sono costrette a partire da qui andare in altri in altri paesi per per fare spesa molti sono a piedi molto sono disabili quindi è difficilissimo ed è importante la presenza di questo per di questo punto vendita per cui chiediamo ad oggi di sbloccare questa situazione e di dare a Osteria Nuova comunque la possibilità di riavere un servizio di spesa così importante. Nell'occasione di sabato i lavoratori hanno anche incontrato la senatrice del Movimento 5 Stelle Rossella Cotto sottosegretaria al lavoro che in questi giorni è impegnata nel tour elettorale in vista della chiamata alle urne delle 25 settembre. Sono qui venuta a supporto di questi lavoratori per cercare di capire cosa è successo effettivamente a questa catena a questa catena di supermercati che vede coinvolta non solo la nostra regione e la nostra provincia ma anche la regione Veneto. Insieme ai sindacati abbiamo parlato su come intervenire e cercheremo in qualche modo di fare intervenire anche la regione per fare un lavoro congiunto con la regione Veneto e fare interventi sia al Mise che al Ministero del Lavoro. E passiamo alla politica. Nel prossimo servizio di Simone Celli andiamo a vedere i principali contenuti emersi dalla visita a Fano in questo weekend del segretario federale della Lega Matteo Salvini. Non il bagno di folla delle sue ultime apparizioni ma sabato mattina nella città della Fortuna c'era comunque un nutrito gruppo di simpatizzanti ad accogliere il segretario della Lega Matteo Salvini alla bottega del gusto di Corso Matteotti. Tra i tanti temi trattati non poteva mancare quello più incalzante il caro bollette. Non si può aspettare l'albergo a Senigallio dove ho dormito stanotte mi ha fatto vedere la bolletta che è triplicata rispetto all'anno scorso e quindi qua occorre un intervento urgente italiano ed europeo per bloccare gli aumenti. Altrimenti noi vinciamo le elezioni ma ereditiamo un milione di disoccupati. Perché se lunedì la Russia chiude i rubinetti bisogna intervenire subito con alcune decine di miliardi. Probabilmente i 30 miliardi che chiediamo da tempo non bastano per bloccare gli aumenti. Molti di quelli che dicono aspettiamo il nuovo governo per bloccare gli aumenti di luce e gas non hanno capito che a ottobre molte aziende saranno chiuse e quindi io voglio salvare l'economia del paese. A proposito di energia per il leader del carroccio occorre un cambio di passo riassumibile in una sola parola nucleare. Tutto il mondo sta investendo in nucleare dalla Francia agli Stati Uniti, la Cina, il Giappone, la Corea, la Russia, la Romania, la Finlandia, la Francia, la Slovenia, tutto il mondo produce energia sicura, senza emissioni con poche scorie e pulita. Quindi non può essere solo l'Italia dire no. Aggiungo la riflessione sull'Adriatico, ci sono i croati che estraggono gas e noi quello paghiamo caro. Sul fronte internazionale Salvini è tornato a rimettere in discussione l'efficacia delle sanzioni combinate alla Russia. L'unico caso al mondo in cui le sanzioni per fermare una guerra, per mettere in ginocchio un regime, per bloccare gli attacchi, non danneggiano i sanzionati ma danneggiano coloro che sanzionano. Quindi ci stanno rimettendo marchigiani e italiani e ci stanno guadagnando i russi. Quindi evidentemente a Bruxelles c'è qualcuno che ha sbagliato i conti, bisogna continuare a sostenere, difendere, aiutare il popolo ucraino, ma le sanzioni non stanno facendo male alla Russia che sta guadagnando centinaia di miliardi in più, stanno facendo male alle nostre imprese e alle nostre famiglie. Quindi evidentemente c'è qualcosa da ripensare. Secondo il leader del Carroccio c'è tanta voglia di centrodestra, nelle marche come in altre regioni. E sono due gli assessori regionali candidati alle prossime elezioni, il fanese Mirko Carloni e Giorgia Latini, che in caso di vittoria lascerebbero in giunta un vuoto che ha preoccupato sin da subito anche lo stesso presidente Francesco Acquaroli. Per la Lega vince la squadra e quindi se due persone vengono scelte e promosse dai marchigiani per rappresentarle in Parlamento ce ne sono altre 20 in Casa Lega, fra amministratori locali, imprenditori, militanti pronti a rafforzare la squadra della giunta regionale. Quindi per me problemi non ce ne sono. Aspetto con gioia il voto dei marchigiani del 25 settembre. Libero accesso al primo anno della facoltà di medicina, poi una scrematura sulla base dei voti ottenuti. È questa la ricetta della Lega per metter fine alla carenza di personale nella sanità, un problema che nella nostra provincia negli ultimi mesi ha compromesso il regolare servizio di guardia medica. E poi c'è il Covid, su cui Salvini si è mostrato sostanzialmente ottimista. Conto che il tempo degli obblighi, dei green pass, degli allontanamenti da scuola, dall'ospedale e dal lavoro sia un ricordo, ahimè, dei mesi passati e quindi che si possa guardare con fiducia al futuro. Poi se speranza piuttosto che crisanti fanno campagna elettorale sui morti, a me mettono tristezza. E farò di tutto perché il prossimo Ministro della Salute sia un medico, sia un medico che conosce il tema di cui si occupa. Infine, sempre sulla sanità, l'affondo contro la gestione degli ospedali da parte della scorsa giunta regionale guidata dal Partito Democratico, a partire da quello di Fano. Conto di tornarci perché quel cittadino in bicicletta mi diceva vieni a vedere come il PD in passato ha ridotto l'ospedale di Fano e a me piace toccarle con mano le situazioni. Abbiamo una squadra, il governo delle Marche, che sta recuperando in pochi mesi tanti anni perduti. Però a Fano conto di tornarci, ovviamente oggi è un sabato mattina alle 9 e mezza, però l'accoglienza mi sembra straordinaria. Poi ripeto, per me come segretario della Lega e come italiano le Marche sono un modello di buona amministrazione. Buone notizie per l'emergenza acqua nella provincia di Pesaro Urbino. Oggi l'assessore regionale Stefano Aguzzi si è riunito assieme al Comitato di protezione civile per esaminare la situazione idrica degli invasi che è risultata rassicurante a seguito dell'apertura dei pozzi e dei recenti eventi meteorologici. Si è così stabilito di chiudere i pozzi di Sant'Anna al Furlo e il Pozzo del Burano in via sperimentale a partire da oggi pomeriggio e fino a venerdì. Giornata di venerdì in cui il Comitato tornerà a riunirsi per verificare gli effetti della chiusura. Ci spostiamo a Gabicemare dove il fenomeno dell'abusivismo commerciale e della vendita di prodotti contraffatti viene ora contrastato dalla polizia locale anche attraverso perlustrazioni tramite un drone professionale dotato di telecamera termica infrarossi capace di volare anche in ore notturne. Tramite questo strumento gli agenti possono ora monitorare in modo agevole l'arenile de Magnale per effettuare interventi mirati in caso di presenza di venditori abusivi o di altri comportamenti vietati. Si tratta di una novità frutto dell'accordo spiagge sicure stretto ad agosto con la prefettura e che ha previsto uno stanziamento ministeriale di 35 mila euro. Torniamo su Pesaro dove nel weekend è stata inaugurata nella sede del quartiere 5, Cattabrighe Vismara l'opera Catarsi ovvero un murale realizzato dai partecipanti al laboratorio di street art tenuto da Hermes Bicchi e promosso da Quintos, il quartiere microcosmo del futuro e capoluogo della cultura per il semestre gennaio-giugno 2022. Figura centrale del murale di 5 metri di altezza per 15 di lunghezza è un cervo, la sua sagoma spicca fra le fronde della vegetazione e ricorda la ciclica rinascita della natura. Altro spettacolo di colori quello che si è tenuto ieri alle cesane di Urbino in occasione della 67esima edizione della Festa dell'Aquilone. Un'edizione 2022 che ha premiato i colori verde e viola della contrada della piantata capaci di far volare i loro aquiloni più in alto delle altre nove contrade. Un'edizione che ha confermato la grande partecipazione della cittadinanza urbinata e non solo dai più piccoli fino agli anziani. Ed ora il nostro Antonio Astuti ci porta a rivedere l'animato weekend alla palla di pomodoro in occasione delle 40 discipline sportive che hanno caratterizzato la seconda edizione di Pesaro Challenge. È una seconda edizione di Pesaro Challenge con la quale mettiamo in rete una serie di specialità, di discipline e di società sportive del territorio. Il nostro obiettivo è quello di creare un contesto nel quale tutta la cittadinanza può provare, sperimentare e godere dello spettacolo sportivo a tutti i livelli. Abbiamo parlato poco fa con un titolo mondiale di una specialità e ci sono titoli nazionali importanti, la nostra città di Pesaro veramente eccelle in diverse discipline e il contesto anche giovanile ci sembra il modo migliore per essere di stimolo e di esempio alle nuove generazioni. Uno di questi sport è il volley, siamo col vice presidente della Blue Volley che quindi è uno degli organizzatori poi dell'attività pratica che si svolge qui alla palla di pomodoro con questo sport. Sì, abbiamo organizzato un torneo di S3, spike ball, con tre squadre di Rovigo, una di Roma e quattro squadre nostre della Blue Volley e è andato benissimo, ci siamo divertiti. Il volley è uno sport in Italia molto seguito, molto praticato, tanti ragazzi giocano a volley ma è così vero che bisogna essere per forza alti? No, no, assolutamente no. Certo l'altezza dà una spinta in più, però bisogna essere coordinati e basta l'altezza giusta, uno non deve essere alto 1,90 per giocare a pallavolo. Poi ai livelli bassi l'importante è che si divertono, anche se sono bassi va bene uguale, ci sono ragazze basse che sono bravissime, hanno un'elevazione alta e quindi possono giocare anche a alti livelli. Ovviamente ne approfittiamo per un pronostico sui mondiali che ci sono in questo momento. Eh, siamo stati bravi le prime tre partite, siamo arrivati in terza fascia, quindi ci tocca il Cuba, speriamo che vada benissimo, poi dopo inizierà pure i mondiali femminili, quindi incrociamo le dita. E in occasione di Pesaro Challenge è stato anche presentato l'ultimo libro del comandante Alfa alla presenza dello stesso cofondatore del GIS, gruppo di intervento speciale dei Carabinieri. Vi invitiamo a non perdere l'intervista al comandante realizzata dal nostro Antonio Astuti che andrà in onda fra poco alle 20.10, subito dopo la prima edizione del nostro telegiornale. Andrà invece in onda mercoledì 7 settembre alle 21.20 lo speciale realizzato in occasione di Tavuglia in moto che come ogni anno ha preceduto il tradizionale appuntamento con il moto mondiale a Misano. Vi diamo qualche anticipazione di quanto accaduto a Tavuglia nell'intervista realizzata alla sindaca Francesca Paolucci dalla nostra Roberta Esperide. L'ottava edizione, quindi sono ormai un po' di anni che cerchiamo di organizzare in occasione della settimana del Gran Premio di Misano, che chiaramente lo definiamo il Gran Premio di casa perché è vicinissimo a casa nostra, in questa settimana qualche giornata la dedichiamo ad eventi nel nostro paese a Tavuglia. È doveroso farlo, lo è stato in passato e lo sarà sempre perché la gente ormai è affezionata. Dicevo prima che ringrazio i tanti amici perché ormai parliamo di amici che arrivano a Tavuglia da tante parti d'Europa e del mondo per festeggiare con noi questa ricorrenza. Ospitiamo, come abbiamo fatto giovedì sera, dei piloti che corrono nelle varie categorie del moto mondiale. Sono tutti ragazzi che o risiedono qui a Tavuglia e quindi credo che continueremo ad essere uno di quei comuni che ha un record come numero di piloti tra gli abitanti. Piloti che corrono in un mondiale, quindi nel mondo, voglio dire solamente a Tavuglia ce ne sono tre e altri frequentano il nostro paese per le tante altre cose, dall'allenamento eccetera. Le persone che arrivano alla festa, agli eventi che organizziamo e devo dire non sono mai semplici perché io dico sempre che siamo un piccolo comune. Le risorse, le possibilità, le persone che lavorano. Quindi la prima cosa che mi viene sempre da dire è un grande grazie a tutti quelli che lavorano e che si spendono personalmente per contribuire alla riuscita di questi eventi che ormai hanno un cammino segnato però ogni anno bisogna inventarsi qualcosa di nuovo. In queste ultime due edizioni abbiamo avuto degli stuntman oltre le due ruote che io dico che sono dei pazzi perché fanno delle cose incredibili e anche con i quad sono veramente delle evoluzioni bellissime ma rimani quasi scioccato da quello che riescono a fare. Però è veramente bello perché lo facciamo nel cuore del paese con le persone che sono molto disciplinate e rimangono sempre molto contente di questo spettacolo. E ieri sono partiti i campionati di calcio anche per quello che riguarda la Serie C e la Serie D che vede la Vis e il Fano che ha visto la Vis e il Fano impegnati ieri in due trasferte coincise con altrettanti pareggi. L'esordio della Vis è stato uno 0 a 0 contro la Re Canatese sul campo neutro dell'Elvia Recina di Macerata. Un risultato ad occhiali mal digerito dai pesaresi protagonisti di un clamoroso torto arbitrale arrivato nel finale quando il portiere della Re Canatese Bagheria ha travolto il Vissina Uccelli e l'arbitro è sembrato propendere per il rigore e l'espulsione del portiere ma il guardaline ha cancellato tutto ravvisando un fuorigioco parso inesistente. Un episodio che ha fatto infuriare mister Sassarini espulso nell'occasione. Nel primo tempo la Vis aveva anche colpito una traversa con Fedato. E invece nella laziale Ardea il Fano ha debuttato con un 1 a 1 sul campo della Nuova Florida. Decisivo Tommassini all'ottantunesimo nel riacciuffare il vantaggio laziale maturato nel primo tempo. E si conclude qui questa nostra edizione delle telegiornali Rossini News. Come vi abbiamo anticipato poco fa non perdetemi per chi ci segue dopo la nostra prima edizione alle 20.10 l'appuntamento con l'intervista al comandante Alfa realizzata alla palla di Pomodoro dal nostro Antonio Astuti in occasione del format Pesaro Challenge. E poi a seguire la nostra prima serata alle 21.20 è dedicata ad una nuova puntata della TV dei viaggi che ci porterà alla scoperta dell'isola siciliana di Pantelleria. E vi ricordiamo come sempre l'appuntamento con la nostra rassegna stampa quotidiana Buongiorno Rossini che ogni giornata dal lunedì al sabato vi tiene in compagnia in diretta dalle 7.20 e nell'occasione di domani ci sarà la nostra direttrice Emanuela Rossi. Ed è davvero tutto per questa edizione di Rossini News. Vi ringrazio per averci seguito, vi lascio alle previsioni del tempo e vi auguro una buona serata in compagnia dei nostri programmi.